Un bilancio più che positivo, con circa 660 vaccini fatti, quello della campagna vaccinazioni nei piccoli comuni del circondario, che ha permesso, grazie alla collaborazione tra comuni, ASD, Esercito e Carabinieri, conti immobili, di rendere alcuni comuni della fascia del Gran Sasso covid free. Qui è stata vaccinata in sostanza tutta la popolazione vaccinabile, luoghi che erano lontani dagli hub vaccinali, operazione che ha permesso in poco tempo di concludere la campagna risparmiando risorse e ottimizzando la logistica. Dieci comuni coinvolti in questo primo giro, che ora potranno guardare all'estate e ai risvolti turistici, con maggiore ottimismo. Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano, Castelvecchio Calvisio, Carapelle, Santa Lucia degli Abruzzi, San Benedetto Imperilis, Roccapia, Caporciano e Bisegna. A sottolineare la riuscita dell'iniziativa il sindaco Pierluigi Biondi, affiancato dal presidente della regione Marco Marsilio. Abbiamo fatto circa 660 vaccinazioni, di fatto abbiamo vaccinato tutta la popolazione vaccinabile che è aderito e che liberamente ha deciso di aderire ai vaccini. Possiamo ben dire che questi comuni oggi sono di fatto covid free. Un'attività virtuosa che ci consente anche di fare una buona programmazione a livello turistico, chiaramente, perché diciamo con la stagione estiva ci aspettiamo tanti turisti e quindi una ripartenza che a questo punto avviene in maniera più sicura. In conferenza stampa anche la ASLA, che ha supportato il progetto dotando i team di vaccini. Come ha ricordato il manager della ASLA, Roberto Testa, sono state impiegate quattro squadre dell'esercito e quattro dei carabinieri, coordinate dal colonnello dei carabinieri Falvo. Importante è anche il supporto del comandante provinciale Nazareno Sant'Antonio, che ha parlato di una fase sperimentale. Ora si continuerà a vaccinare altri paesi sotto ai 500 abitanti e poi sotto ai 1000. Questa è stata un'idea che è emersa durante il comitato ristretto dei sindaci, avanzata dalla sua presidente, il sindaco dell'Aquila, che noi abbiamo accolto subito con grande entusiasmo. È un'idea vincente perché appunto ha consentito di arrivare in questi piccoli centri e arrivare a una sorta di immunità di comunità, quindi una vaccinazione di comunità a creare queste piccole realtà no Covid.